Matteo Renzi si afferma nettamente anche a Messina e provincia con una percentuale del 63,91% dei consensi, 10.235 voti su 16.044 complessivamente espressi. Gli altri candidati, Gianni Cuperlo e Pippo Civati, hanno totalizzato rispettivamente il 21,27% con 3.405 preferenze ed il 14,81% frutto dei 2.372 consensi ottenuti. Il cambio di rotta del centro-sinistra messinese è netto rispetto alle ultime elezioni primarie di un anno fa, quando il sindaco di Firenze venne nettamente superato da Pierluigi Bersani, fermandosi intorno al 27%. Focalizzando il dato su Messina, negli otto seggi allestiti sul territorio comunale, Renzi ha conquistato 1.985 voti, pari al 56,71%. Vicini, Cuperlo e Civati, che hanno ottenuto rispettivamente 774 e 740 preferenze percentuali per entrambi, tra il 21 e il 22%. Ed i renziani della prima ora, adesso dopo la sconfitta dell'anno scorso, si godono il successo. L'analisi del voto, dal loro punto di vista, è quella di un consenso meno indirizzato rispetto al passato. Un risultato, sostiene Alessandro Russo, meno inquinato da indicazioni dall'alto. Il riferimento è al leader locale del partito, Francantonio Genovese, che non fornendo indicazioni ai suoi, avrebbe fatto mancare all'appello numerose schede, facendo precipitare il numero dei partecipanti alle primarie. Il risultato comunque non è cambiato. Il sindaco di Firenze è anche a Messina il nuovo leader riconosciuto dal PD. E adesso tutte le anime del partito dovranno fare i conti con lui. Per l'ex rotamatore, l'onere di dimostrare con i fatti tutto quanto sostenuto con la sua brillante capacità comunicativa.